Salve, sono Laura Binarelli, consulente del Codacons e mi occupo dell'azione fondiaria SAI. Come è noto, ultimamente il valore delle azioni della compagnia assicurativa ha subito un brusco calo e quindi una perdita di valore, con il conseguente danno di tutti coloro che posseggono azioni della compagnia assicurativa. Su questo sta indagando il Tribunale Penale di Milano per accertare le eventuali responsabilità dei vertici aziendali ed il Codacons è al fianco di tutti gli azionisti che hanno subito una perdita di valore delle proprie azioni e quindi un danno economico. Possono partecipare a questa azione tutti gli azionisti ed ex azionisti di fondiari SAI, anche di Milano Assicurazioni SPA e di Premafin SPA e anche se attualmente non sono più in possesso di azioni. Il nostro obiettivo è ottenere il risarcimento della perdita finanziaria subita dal proprio pacchetto azionario a causa della perdita di valore delle azioni e ottenere anche il risarcimento del danno morale subito a causa di questa vicenda. Per partecipare a questa azione potete andare sul sito www.codacons.it alla sezione azioni collettive, cliccare sul banner azione fondiari SAI dove troverete tutte le informazioni su questa azione e tutte le indicazioni per partecipare. Mi raccomando stiamo parlando dei vostri diritti, fateli valere!